Oggi ci ricevono le colleghe dell'area amministrazione, un'area strategica per il funzionamento e il profitto della prestitosi. Forza, seguitemi! Buongiorno ragazze! Ciao Francesca, piacere! Comodiamoci giù nell'area meeting, così siamo più comode. Andiamo! Allora Elena, raccontaci un po' come è strutturata l'area amministrazione. Ciao Francesca, dunque la struttura amministrativa è composta da tre persone specializzate e qualificate, a servizio dei dipendenti e collaboratori. Il nostro è un ruolo strategico visto che è finalizzato al profitto dell'azienda. Ci occupiamo praticamente di tutte le scadenze fiscali e abbiamo uno stretto rapporto con tutti i nostri consulenti del credito che possono riferirsi a noi sempre e comunque. È un lavoro complesso ma di gruppo. Bisogna interfacciarsi continuamente fra noi colleghi, con i consulenti del credito e con i loro uffici. I nostri collaboratori sono molto seguiti da questo punto di vista ed è molto importante che il rapporto con loro sia diretto. In che modo viene messo in pratica in quest'area il principio le persone al centro? Beh Francesca, l'azienda ci ha formato al problem solving e ha un approccio di sensibilità verso le esigenze del collaboratore. Pertanto, al di là delle tempistiche prestabilite e dei prospetti provvigionali elaborati, cerchiamo di assecondare le richieste che riceviamo, anche per quanto riguarda anticipi sulle fatture o sulla produzione. Vedi Francesca, noi siamo consapevoli che il motore del nostro business sono i consulenti del credito e per questo abbiamo a cura il loro benessere e cerchiamo sempre di dar loro tutti gli strumenti per poter svolgere la loro professione al meglio e fare carriera. Il nostro intervento dunque è a 360 gradi. Forniamo assistenza continua per tutto ciò che ci concerne e rispettiamo puntualmente tutte le agevolazioni che l'azienda prevede per i collaboratori a vario titolo. Perché un consulente del credito dovrebbe scegliere PrestitoSì? Perché in questi dieci anni di attività in più, PrestitoSì si è sviluppata come una realtà complessa e strutturata, ma sempre a servizio dei consulenti del credito.